La quindicesima edizione del concorso regionale dedicato alle scuole primarie C'era una foglia è stata presentata in Regione. Il tema dell'edizione di quest'anno è Una fiaba dedicata al mare. Hanno preso parte all'iniziativa Angelo Sciapichetti, assessore all'ambiente della Regione Marche, Robertino Perfetti, presidente spazio ambiente e ideatore del progetto, Anna Rita Settimi Duca, direttore operativo Fondazione Ospedale Salesiollus e Roberta Tiranti, responsabile commerciale Italia Elila Spigadizioni. Un appuntamento ormai annuale importante che l'Associazione Spazio Ambiente di Robertino Perfetti porta avanti con grande impegno, cerca di creare questa cultura della difesa, dell'apprezzamento dei beni ambientali che è abbinata alla cultura della solidarietà perché poi serve anche per finanziare opere che possano arrivare ai bambini in difficoltà. Quindi mi pare una bella iniziativa. Quest'anno l'iniziativa verterà sul mare, la valorizzazione del bene marino e in una regione come Marche che punta molto sull'aspetto turistico e sulla pesca. Voglio ricordare che noi abbiamo avuto nel 2016 17 bandiere blu, credo che sia un fatto importante anche per questo e quindi è importante la presenza della regione. Quest'anno saranno premiate fiabe, poesie o racconti dedicati al mare attraverso uno scritto della lunghezza massima di due cartelle. Con le opere selezionate sarà edito un libro di fiabe e racconti e come nelle edizioni precedenti verrà illustrato da professionisti. I proventi derivanti dalla vendita ed offerta del libro saranno destinati ad un progetto di solidarietà grazie alla collaborazione con la Fondazione Ospedale Salesiollus. La prima scadenza per partecipare al concorso è il prossimo 16 dicembre. Entro il 26 febbraio 2018 dovranno essere presentati i lavori. Tutte le informazioni al sito www.spazioambiente.org.